Hey, benvenuti in questo canale di A-S-M-S-M terapia oggi faremo un A-S-M-R molto 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 lento siamo pronti a partire con questo un piccolo esperimento un piccolo esperimento un piccolo esperimento un piccolo esperimento che sta accadendo un piccolo esperimento l'occhia ecc ric io di solito faccio i video in modalità abbastanza veloce per cui adesso devo dire che è una prova abbastanza difficile anche per me 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.